Ciao bello, sono Lauridis e in questo video andiamo a parlare del Rift Stalker, ovvero il gatto maledetto, il gatto umbrale. Ho deciso di fare lui perché mi è stato chiesto molte volte nei commenti, quindi ho detto vabbè, iniziamo da lui. Il prossimo dovrebbe essere il Night Zaga perché è il secondo più richiesto. Capisco perché il gattino è il più richiesto perché all'inizio è confusionario, non lo capisci bene e soprattutto fa male, fa molto male. Però ti assicuro che appena lo capisci non potrà fare più niente, gli fai tanto ma tanto male tu. La prima cosa da imparare, come con tutti gli altri Beemote, è il moveset. Quindi devi imparare a schivare tutti gli attacchi ai capelli prima che li faccia. Ad esempio, quando fai il balzo in avanti, si ritrae un po' indietro. Quando fai l'attacco di coda, piega il tronco come per chiarire un arco con il suo corpo e poi fai l'attacco di coda a girare. Quando invece fai un salto sul posto per fare una pozzanga alla terra di materia umbrale, lo capisci perché salta. Al momento in cui salta, capisci che devi doggiare quando sta per atterrare e eviti l'attacco. C'è anche un altro balzo in avanti che fa il balzo trottola. Quando vai verso di te e fa una mezza trottola per colpirti, quel attacco fa malissimo. Prima di fare quell'attacco, rugisce quasi sempre. Quindi grazie al rugito, capisci che sta facendo quell'attacco. E questi sono gli attacchi base. Ce li ho fatti vedere brevemente, ma sono abbastanza semplici. Basta giocarlo per capirli. Gli attacchi speciali che fa sono tre. Il primo attacco consiste nell'entrare nel portale e ti rispunta davanti per attaccarti. Quando rispunta, lo puoi interrompere. Hai la coroncina in testa. Ogni volta che hai la coroncina, puoi interromperlo. Imparare il timing di questa interruzione non è facilissimo. Quindi fallo, prendi danno, continua a provarci finché non ci riesci. In queste clip stai avendo come interromperlo con il tipo di arma. Non c'ho la clip con le pistole, perché con le pistole non puoi interromperlo. Però ti devi portare la granata per stunnarlo. C'ho la granata apposta per stunnare Beemoth. E ringrazio tantissimo Vincio perché mi ha fatto la clip con le Chain Blades. Perché io non ho il set e non potevo farla. Quindi grazie mille, stupito Vincio. Però stai attento che quando vai in Rage non potrai interromperlo sempre. Perché a volte invece di fare questo attacco che puoi interrompere, fare un altro attacco che consiste in due colpi di coda e non potrai interromperlo. L'altro attacco speciale è quando ti fa entrare nel suo mondo, crea dei portali davanti a te e ti butta davanti prima delle palline, poi delle copie e poi esce lui. Qui ogni volta che il portale è viola chiaro o rosa, quel colore che vuoi vedere, vuol dire che sa per uscire lui. Quindi non è una copia, non è una palletta. E ogni volta che esce quel portale è interrompibile. Quindi devi imparare il tempismo per interromperlo. Se lo fai in normal, ovvero in normale e non in eroico, la prima volta è ti portare nel portale e la seconda che lui uscirà da uno di quei portali rimarrà fermo per un bel po' di tempo. Quindi hai molto tempo per interromperlo. In eroico questo non succede. L'altro attacco speciale è quando salta su e giù, quando entra nel terreno e ti esce da tutti i piedi e ti ricade da sopra. Quello è facilissimo da schivare, basta ti togli l'arma e cominci a girare e fare la schivata appena nella pozzanghera sotto. Però stai attento e quando finirà di attaccarti in quel modo farà una rotolata, una capriola verso di te. Ma come riesci a capire quando è l'ultimo salto e ti verrà di sopra? Perché quando esce dal terreno, ha del vento e dalla materia umbrale che lo circonda. Come se non l'immagina ha questi piccoli cosigni accanto al corpo e quello ti fa capire che è l'ultimo salto in aria prima di venerti sopra con una capriola. L'altro attacco speciale è quando entri nei portali ed esci a trottola. Questo fa malissimo, questo è pensato che faccia più male e ti distrugge. Ma pure questo è evitare abbastanza semplice, è solo molto veloce, ma ti basta togliere l'arma, correre e doggiare ogni volta che vedi che sta scendo dal portale. Questo lo impari continuando a prenderti colpi in faccia. Purtroppo fa male, però lo impari così. L'ultimo attacco speciale da dire è quando crea il muro di portali dietro di sé per mandarti quelle palline maledette. C'è un dettaglio importante. Questi proiettili li fanno male, anche se li crea lui. È stupido, si fa male con i suoi stessi proiettili. Quindi usa il gatto come scudo quando crea questi portali e farlo colpire i suoi stessi proiettili. Mi è capitato diverse volte di vedere un proiettile e rompere un pezzo del gattino, poverino. E se riesci, cerca di creare il chain break. Ora ti spiego velocemente cos'è. Questa è la tecnica che usano molti veterani del gioco, ovvero il cercare di rompere i pezzi del bimoth tutti insieme, quindi indebolirli tutti allo stesso modo, in cui rompi continuamente i pezzi del bimoth in modo da non farlo muovere più e finirlo. Anche perché il rift stalker è molto debole. E fa male, ma ha poca vita e i pezzi si rompono facilmente. Tra eroico e normale non c'è molta differenza. L'eroico entra molto più volte nei portali, però questo lo rende anche più interrompibile. E soprattutto l'eroico rimane estordito per molto meno tempo rispetto al normale. Queste sono le differenze sostanziali tra eroico e normal. Oltre a quella che ho detto all'inizio. Ok, per il video è tutto. Spero ti abbia aiutato. Fammi sapere se ti è servito, se c'è tutto, ma penso di sì. E fammi sapere il prossimo mostro, il prossimo video ti interessa vedere. Noi ci vediamo al prossimo. Ciao, ciao. Ciao.